A breve nel comune di Capaccio Pestum partirà il servizio di salvataggio sulle spiagge libere. Sentiamo. Partirà nei prossimi giorni il servizio di salvataggio sulle spiagge libere del litorale di Capaccio Pestum. Lo ha deciso la Giunta Comunale con un'apposita delibera, con la quale ha dato incarico all'ufficio competente di predisporre gli atti necessari. La fascia costiera del comune infatti è lunga circa 12 chilometri e sono molti i tratti lasciati alla libera fruizione dei turisti. Le postazioni di salvataggio verranno collocate nei tratti ritenuti più a rischio nel periodo di maggiore affluenza turistica e saranno attive dalle 8.30 alle 19.00. A queste postazioni di salvataggio bisognerà aggiungere tutte le altre che verranno assicurate da coloro che otterranno l'autorizzazione per fittare attrezzature da spiaggia sull'arenile comunale. Tra i servizi che queste persone dovranno assicurare infatti c'è anche il servizio di salvataggio.